Il primo presepe vivente al mondo venne realizzato da San Francesco d'Assisi nel 1223 e ancora oggi vengono allestiti e organizzati dei suggestivi presepi viventi e artistici. Sono delle vere e proprie opere d'arte che prendono forma in angoli affascinanti di molti paesi, spesso sono unici grazie alla creatività e alla ricerca e alla passione di veri e propri artisti locali. I presepi viventi vedono protagonisti molti personaggi classici della natività con i costumi tipici dell'epoca e vengono allestiti nelle più svariate forme ed interpretazioni. Per questo quest'anno noi di Lemine News abbiamo deciso di dare spazio a tutte queste persone creative e appassionate che sono presenti nel grande Lemine e in particolare ad almeno San Salvatore e almeno San Bartolomeo, dandogli la possibilità di contattarci per farci venire da loro a produrre qualche mini filmato oppure loro stessi possono inviarci delle fotografie o dei mini filmati girati direttamente da loro stessi. Per inviarci il materiale o richiedere la nostra presenza potrete contattarci attraverso il numero whatsapp di Lemine News che molti di voi oramai conoscono ma se non lo conoscete lo trovate qua in sovraimpressione in questo video. Io intanto vi ringrazio e vi auguro buone feste a tutti quanti. Ciao e grazie.